Con i denti non potevo più andare avanti, sia dal punto di vista sociale, era diventato una cosa che dovevo per forza risolvere in qualche modo. Ho avuto un approfondimento più volte guardando sempre queste introduzioni che vedevo del dottor Palmas e ho voluto fare un approccio telefonico con la vostra direttiva per vedere insomma quali erano le motivazioni che avevate voi da darci come consigli, come cose. Ho avuto una buona referenza, mi sono trovato molto bene telefonicamente già con loro, con l'approccio e poi ho deciso di poter venire a provare a fare un viaggio, sono venuto io con mia moglie, siamo venuti in due la prima volta e mi sono trovato persone molto cordiali, molto disponibili sia da quando sono arrivato all'aeroporto, tutta quanta la sistemazione agli alloggi. Mi sono trovato molto bene, ho cercato pure diciamo in Italia qualche cosa, però insomma mi ha dato fiducia il dottor Palmas, non so perché. Però leggendo le interviste ho avuto molto fiducia, sono partito molto fiducioso. Avevo grandi problemi nel mangiare perché comunque andavo dal dentista ma senza poter risolvere i miei problemi che comunque non erano semplici. Anche avendo dei denti miei avevo dei problemi, dolori, comunque mi mancavano denti pure per poter sorridere e essere pure gioioso di poterlo fare, insomma che mi creava problema. Quando che esco già esco sorridendo già da casa perché comunque ti cambia proprio la vita. Guardi quando che sono venuto ho detto concentrato, mirato che comunque l'intervento lo dovevo fare. Poi sono stato molto comunque con il chirurgo, la persona che ho avuto a disposizione vicina che mi traduceva tutto quanto per filo e per segno. Il chirurgo non è stata una persona molto in gamba, mi ha proprio rasserenato. Quindi ho fatto l'asportazione di tutti i miei denti, io non ho sentito nessun dolore perché lui mi ha guidato praticamente dicendomi che a qualsiasi problematica di dolore insomma potevo alzare la mano. Io sono stato sereno, sia tutto l'intervento, non ho avuto nessun problema di dolore, di niente.